Hey bros, bella lì come va? Come butta su fredè? Questa qua è la versione compatta di una sessione ben più lunga di Sekiro che abbiamo fatto su Twitch e potete andare a vedere la sessione intera là, dove si parla anche di cose più interessanti e non si fa esclusivamente gli stupidi, ma siate avvertiti, questo video è estremamente malsano. Rimanete! Perché oggi stiamo andando avanti con Sekiro. Io ho i miei fogliettini qui, con tutto scritto, tu puoi arrivare qui alle spalle, bam! Lo stealth in questo gioco, cioè, c'è, ma è l'unica cosa che ancora non... non è che non mi soddisfa appieno, nel senso che è uno stealth un po' vago. Come avevo visto tempo or suono, ci sono dei segreti là sotto, adesso arriviamo, qui è dove sono arrivato l'ultima volta. No! Non si fa! Ah, yes! Oh, finalmente il tutorial sull'attacco pericoloso. Non sarà facile, quindi l'affondo va deviato. La spazzata va saltata. Quella era una spazzata, quella va saltata. Però, un attimo ci vuole del tempo. Cioè, risuscitare, va bene, resurrezione. Andiamo avanti. Ehi bro, pensavi che fosse finita? Invece eccomi qui. Ressurrezione. Una carica ripristina ogni volta che riposi un idolo dell'istruttore. Ok. Ok, ci siamo. No, quella è una spazzata, la spazzata che dovevo fare. Dovevo saltare, vero? No, qualunque cosa tu stia facendo non si fa. A casa! Yes, Queen! Oh, guarda come si parla dal mio shuriken. Fun! Cuccolo! Accidenti! Ti posso uccidere così? Solo un colpo, immagino. Wow, 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 wow! Don't die, Säkiro! Woo! Certo, papi, adesso. Ah, polo male desto, bastardo. Non si fa. Cosa? Cosa? Fuck. Fuck! Fuck! Ehi, 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 stiamo calmi! Stiamo calmi, ragazzi. Ahi! Ok, come l'ho detto. Stiamo calmi! Oh! Liscio! Wow, 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 wow. Stai calmo. Stai calmo. Ah, mi scordo i pulsanti. You wanna fight? Come and fight! Ah, fuck me! Fuck me! Ok, qui c'è qualcosa, si può scendere. Oh, fuck me! No, stavo scherzando, stavo scherzando. Ah! Fuck! Oh, fuck! Woo! Lo sai che non vediamo nessun cerchietto in basso a sinistra? Ah, è vero. Voi non vedete nessun cerchietto perché c'è... C'è la cosa qui. Siete contenti adesso? Ok? Adesso non vedete i soldi. Siete contenti che non vedete i soldi? Ma ha dei soldi? Adesso non vedete le armi. Non vedete quello equipaggiato. Però comunque sia il tubo non si può togliere. Da qualche parte deve stare. C'è qualcun altro qui in giro ancora? Oh, wow! Stavo lì dietro in realtà. No! Not today! A casa! Porca zozza, maledetto grassone! Grasso! Ho ammazzato un nemico grasso! Quindi merito un trofeo. Dov'è il mio trofeo? Hai ammazzato il grasso! Quell'uomo grasso lo chiamavano. Grasso, boy! What? Eh, via... E siamo sacerdoti di seppondone. Questi confetti clasassini. Occultano e rendono silenziosi. È un gallo maledetto! No! No, gallo! No! Oh, oh, oh! No! Ai polli io dico no, signori. Quando vi dovrete andare a votare, dite no ai polli. Suonaio del giovane signore. Wow, ma sono un genio. È mai a genio o no? Sulle mani di papà. Oh, fuck me! Ma fammi parlare con i Nosuke. Cioè, non ti puoi mettere in mezzo mentre... Porca zozza. Porca zozza, maledetto bastardo lurido. Guardate, oh. Sto parlando con il mio amico Nosuke che sta morendo. Fuck me! Madre mia! Wow! 500, signori! Eccolo là qui. Le castagnoli di Robert da qua. Ehi, cannon boy! Wow, guarda quanto è figo lui! Il design suo mi ricorda tanto uno che incontravi nelle catacombe di Bloodborne. Non mi ci arriva il rampino. Non mi ci arriva il rampino! C'ho la corda troppo corta, porca zozza. Oh, porca zozza, c'ho la corda troppo corta. Ed è qua, dove ho? Ma perché tutto sto rampinaggio di qua, di là, di su, di su, di là? Oh, fuck me! Ma che razza di rampina testata, Sekiro! Wow! Fuck me di nuovo! Fuck me! Fuck me, fuck my ass! Fuck me! Perché il ciccione a sfidarlo da... Ah! Ah! Ok. Ah! Perché? Madre! Ah! Scusate, ormai mi mette anzi al rampino. Trovato idolo dello scultore grazie... Tante. Ah, lo devo offrire a questo Buddha, immagino. Wow, wow, wow. Ah, ehi, quindi per ricordarci cose del passato ci sono delle sezioni giocabili. La cosa interessante è che tu puoi uscire da questo ricordo come e quando vuoi. Esplora il lago, esplora il lago, un pesce gigante! Ok, non è difficile da ammazzare. Scaglia della carpa del tesoro. Questo vuole le scaglie. Tira, 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 ispare. Quel pesce è mio dentro. No, no, stupida carpa! Non l'ho vista in tempo. Ah! Ah! Bella bros, bella frate, come va? Vi siete divertiti in questo magico video? Se è così, beh, lascia like, accendi la campanella. La campanella è essenziale. Proprio la cosa che serve di più per la sopravvivenza di un canale, sembra. Ma se hai bisogno di un'altra dose di zio, beh, clicca uno di questi due video. Sono simpatici, giuro. Non ci metto la mano sul fuoco, ma giuro. Quasi. Quasi.